Uno stage di Judo in programma per questo fine settimana, l'11 e il 12 settembre, al Palazzetto dello Sport di Lerici. Un evento organizzato dalla borgata marinara Lerici, ovviamente sezione Judo, in collaborazione con l'Axi Nazionale, la federazione regionale, che avrà modo di ospitare due grandissime figure nel panorama del Judo. Uno stage rivolto a praticanti, a istruttori, che ha riscosso sin da subito un grande successo. Sì, certamente, siamo molto contenti di ospitare a Lerici, al Palazzetto, due maestri di grande livello. Uno è il maestro Katanishi, che è il curatore tecnico per la Federazione Europea di Judo. È molto famoso in tutto il mondo, un ottavo dan, con il suo assistente Tatsuto Shima, un giovane giapponese che si è subito segnalato nel parterre europeo, gariggiando nella Buddhist League. Entrambi vivono a Lausanne e sono amici da parecchi anni, ci conosciamo. Volevo portare in Liguria il maestro per godere delle bellezze del posto e fargli vedere il Judo Ligure. La cosa è stata subito abbracciata dalla federazione, dalla Filcam regionale, che dà i crediti in base alle presenze, agli insegnanti tecnici e poi è aperto anche ai giovani praticanti. Il Judo, così come tutti gli sport, ha sicuramente subito la situazione che per due anni ha limitato anche proprio lo svolgimento delle attività sportive. Da dove ripartire e quali sono anche i progetti per il futuro? Ma ripartire intanto con intelligenza per cercare di ripartire bene e non andare incontro a difficoltà o a nuovi lockdown. Noi nelle palestre c'è sempre stata una grande attenzione laddove si è potuto aprire, nella preparazione degli ambienti, nel distanziamento, eccetera. Sicuramente il Judo è una disciplina di contatto che ha pagato molto di più di altre attività sportive ed è stata penalizzata. Da dove ripartire? Gli atleti, bene o male, con grande fatica, si sono impegnati. Abbiamo avuto due medaglie di bronzo alle recenti Olimpiadi. Il problema sarà, gli adulti, i bambini e tutto quello, ricostruire tutta una cosa che si è perduta. e dobbiamo stare vicini, essere ottimisti e cercare di lavorare insieme al tessuto sociale perché c'è bisogno veramente di attività sportiva e di sport e di interessi e di cultura per tutti quanti.